Oggi le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morto e disabilità per metà della popolazione italiana. Patologie che vanno innanzitutto affrontate con la cultura della prevenzione perché troppo spesso la diagnosi viene effettuata quando la malattia è già in stato avanzato. La diagnosi percoce offre però possibilità davvero fondamentali e ne sono convinti nel centro specializzato pesarese Fisioradi Medical Center dove è stata implementata la strumentazione e le pratiche di diagnostica non invasiva. Abbiamo la fortuna che siamo arrivati a poter fare prevenzione con una diagnostica ad altissimo livello, una diagnostica che oggi si basa su un'attacca e una risonanza magnetica, macchine che naturalmente possono portare le persone a vedere il proprio cuore oppure le proprie problematiche cardiache prima che siano sintomatiche. E' quello che noi abbiamo fatto qui a Fisioradi Medical Center per riuscire a dare un servizio ai cittadini. Abbiamo cambiato l'attacca, abbiamo preso un'attacca a 128 strati per riuscire a fare questi tipi di accertamenti. Abbiamo una risonanza magnetica ad alto campo ma soprattutto siamo riusciti ad avere in struttura una dottoressa specializzata in refertazione di questi tipi di esami. Grazie a questa implementazione tecnologica abbiamo la possibilità di andare a stratificare il rischio cardiovascolare anche nei pazienti asintomatici, nei pazienti giovani in modo molto accurato perché con questa TAC riusciamo a visualizzare lo specifico carico di malattia del singolo paziente e questa è una guida fondamentale per il cardiologo e per il medico in generale per impostare una terapia mirata e personalizzata e non basata semplicemente sulla stima epidemiologica del rischio. Nei casi più complessi quando vogliamo una diagnostica più raffinata utilizziamo anche un mezzo di contrasto che aggiunge diciamo un'ulteriore fondamentale valutazione che è quella della pervietà per esempio delle coronarie o in caso della valutazione degli aneurismi all'esame che stiamo andando a fare sempre in modo non invasivo andando quindi a lavorare sul fronte di ampliare la diagnostica per i pazienti a basso rischio mentre quelli ad alto altissimo rischio continuano ad andare ad esami molto più invasivi come la coronarografia. Ho vissuto questo problema su me stesso due anni fa facendo una prova sotto sforzo c'è stata un'alterazione dell'elettrocardiogramma e il medico sportivo mi ha mandato dal cardiologo che mi ha fatto fare un'attacca alle coronarie e ho scoperto di avere una coronaria otturata dell'85% senza aver avuto nessun sintomo e poi ho fatto un'angioplastica quindi ho risolto il mio problema e oggi rifaccio tranquillamente la mia vita normale di tutti i giorni la mia vita da sportivo sono uno che ha sempre fatto sport e sta continuando a fare sport quindi quello che possiamo dire che oggi se crediamo nella prevenzione e se facciamo prevenzione anche senza accertamenti invasivi possiamo veramente evitare malattie problematiche cardiache abbiamo visto come anche su persone di 40 e 50 anni stanno crescendo queste problematiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.